Ciao a tutti, beh, che volete che vi dica? La situazione è piuttosto strana e surreale, ma credo che sia arrivato il momento di fare qualcosa per noi, guardarci dentro, riflettere su noi stessi, tutte le cose che magari in questo momento già state facendo. Io in più sto disegnando e oggi mi va di esercitare un po' questo coronavirus disegnandolo e poi eventualmente bruciandolo e dispendendo le sue sceneri dal balcone. Magari lo fate anche voi con i vostri figli, vi divertite, passate 5-10 minuti in allegria disegnando. Quindi pennarelli alla mano e cominciamo a divertirci. Tutto questo finirà, andrà tutto bene e poi finalmente ci rivedremo a giro a fare i famosi, a pericene, una pizza eccetera eccetera. Va bene? Ciao a tutti!